il tedino è saltato quindi non ci si può fare niente adesso mi rimetterò a posto mi opereranno faranno le cose che devono fare poi dopo la cosa che sono contento che mi hanno detto che tornerò sicuramente al 100 per cento uguale a prima quindi lì per lì vi è stato un po il male la paura un po il tutto però insomma quando parlo di solito con voi non rido tanto però il mio carattere solare quindi di certo non volevo lasciare quel tipo di immagine che piangevi in campo quindi questa è la prima cosa ho fatto anche questo questa cosa perché l'ho fatta per ringraziare determinate persone abbiamo un grande presidente che ha una voglia di una voglia di vincere impressionante e quindi va tutelato c'è un direttore sportivo che sa il fatto suo e che personalmente ho un grande rapporto e quindi lo ringrazio di avermi portato qua c'è un grande mister che dopo queste cose quando sono dentro là non si a volte non si possono dire perché sembra che sei un gergo un lecchino così quindi non ne puoi dire però c'è un grande mister che diventerà un grande porterà in alto sicuramente il padova perché ha una personalità che difficilmente si troverà in giro e poi dopo l'ho fatto anche soprattutto per ringraziare il mister e il suo staff perché anche staff molto importante l'ho fatto per ringraziare i miei compagni perché da quando mi sono fatto male oggi mi hanno solo riempito di affetto e in tutto questo giro in andata tutto quello che ho fatto lo devo a loro a loro perché mi hanno dato una grandissima mano e più questa gente che mi ha mi ha voluto bene mi vuole bene e io contraccambio purtroppo non posso più contraccambiare in campo che è la cosa più bella però li ringrazio tanto di tutto questa maglia del padova veramente questa squadra me la me la sentivo mia me la sentivo addosso e è comunque adesso così poi torno fatemi operare poi dopo video quando torno non siamo di certo fortunati però credo che andando avanti su questa strada la strada giusta per vincere è questa perché è la mentalità in questa squadra ora c'è e lo dico lo dico con molta convinzione di quello che dico io ho visto che ho visto che qua da voi c'è stato un giocatore mi sembra prendato gastone prendato che in serie abbiamo fatto 25 gol ecco quello era il mio obiettivo entrare nella storia di questa società superando quei 25